Ciao ragazzi e bentornati in questo video qui a Giapazzo Oggi siamo qui ragazzi in un nuovo video Siamo appunto per parlare di calcio mercato Roma E non solo, principalmente calcio mercato Roma a 360 gradi Ma parleremo anche delle ultime news Che è uscita una notizia importantissima riguardo sempre il mondo Roma Però non una notizia di calcio mercato Guardate tutto il video fino alla fine Mi raccomando, è molto importante il video di oggi Perché parlerò della notizia molto importante Una cosa ufficiale che ci tengo veramente Che guardate tutto quanto il video Quindi lasciate un mi piace Già da adesso, tanti like per un nuovo episodio di calcio mercato E ovviamente condividete il video Se no vi iscrivetevi mi raccomando al canale Molti di voi guardano i miei video Non smetto mai di dirvelo Iscrivetevi che è gratis Fate un favore a me perché cerchiamo di arrivare a questi benedetti 2000 iscritti Che manca veramente poco Mancano poco più di 100 iscritti Veramente iscrivetevi in massa mi raccomando Ovviamente Seguitemi sui social Instagram, piattaforma mia, TikTok E trovate tutti quanti i link qua sotto in descrizione E ovviamente Guardate tutto quanto il video E fatemi sapere la vostra E qui sotto con un commento Recuperate i video che sono usciti negli ultimi giorni Trovate sopra nelle schede O a fine video E andate a recuperare Iniziamo subito Io parlerei prima di quello che è successo Allora ragazzi Dopo l'ultima amichevole della Roma Ragazzi un giocatore della Roma si è infortunato gravemente Un giocatore che in realtà non era nei piani tecnici di Mourinho Però era un giocatore comunque giovanissimo Un classe 2001 Un giocatore che è venuto alla primavera Stiamo parlando di Darbo Darbo classe 2001 Quindi praticamente 22enne Quindi 22-23 anni Molto molto giovane Anzi no 2001 C'ha 21 anni 21 anni Molto giovane Ragazzi purtroppo C'ha avuto l'infortune Si parlava di una distorsione Ma c'è stato l'intervento appunto C'è stato l'interessamento dei legamenti E quindi ragazzi purtroppo si dovrà sottoporre A un intervento chirurgico Lesione del legamento del crociato del ginocchio destro Quindi rimarrà fermo per sei mesi E quindi purtroppo Mi dispiace per il giovane Perché è veramente un giocatore che a me Ho sempre difeso Ma è sempre piaciuto Emery Badarbo Centrocampista gambiano Molto giovane Molto promettente Il quale la Roma quest'anno voleva mandarlo in prestito Per farlo crescere Però purtroppo rimane a Roma Perché si dovrà sottoporre un intervento chirurgico Voglio dire un'altra cosa riguardante Ovviamente parlando di Paolo Di Bala Che è ufficiale Con tanto di news Tutte le piattaforme online della Roma Sta dovunque ragazzi È ufficiale che è il nuovo giocatore della Roma Ma voglio parlare un attimo su Per quanto riguarda il contratto Per quello ha firmato Di Bala Sempre quei famosi 4 milioni e mezzo Più un e mezzo di bonus Che vanno a sbattere a 6 milioni Netti Con i bonus I bonus legati alle presenze Legate a tante cose E voglio dire un'altra cosa Molto importante per la media Il merchandising Per la sponsorizzazione I diritti di immagine di Paolo Di Bala Che potrebbero portare un indotto alla Roma Tra i 20 e 30 milioni di euro anni Quindi una cifra alta Con il quale Di Bala Con i suoi diritti di immagine Potrebbe portare A aumentare le vendite Delle magliette E poi ovviamente È stato ufficializzato Che a lui Verrà Ritagliato un ruolo Da protagonista Nella Roma Quindi non è che sarà un giocatore Che gioca ogni tanto Lui sarà uno dei protagonisti Quindi lui è specialista Sulle punizioni E sui rigori Quindi potrebbe essere Anche il nuovo rigorista Della Roma Anche se c'è il duello Con Pellegrini Potrebbe fare molti assist E quindi Arricchire i suoi bonus E ovviamente Portare tanti punti Alla Roma Però C'è un lago della bilancia C'è un però Ragazzi È stata inserita Questo secondo me Un po' per attirare il giocatore Quindi se ne metti caso Lui non si trovasse È stata inserita In una clausola di Cistoria A poco più di 20 milioni di euro Tra i 20 e 25 milioni di euro Per il quale Di Bala Se arriva un'offerta Superiore ai 20 Se arriva un'offerta Superiore ai 20 milioni di euro Lui può accettare La destinazione E lasciare la Roma Però ragazzi Questo Dipenderà molto Da Di Bala Come si troverà Se Di Bala si troverà bene Io non credo che Se ne vado via da Roma Anche perché Al primo anno Però lui Sta sotto contratto Per la Roma Per tre anni Quindi se lui Se ne vado via prima Devono pagare la clausola Io spero che comunque Non verrà esercitata Quindi non pagheranno Spero che non pagheranno Mai questa clausola Perché Di Bala È nostro La hoia è nostro Parliamo Alla notizia importante Il quale vi ho detto A inizio video Questa è scollegata E potrebbe essere collegata Anche al calciomercato Per il quale Si baserà il prossimo Calciomercato Ma in futuro Sia in questa sessione Ma anche nelle sessioni future Ragazzi L'Opa ha raggiunto L'Opa ha raggiunto l'obiettivo La Roma esce dalla borsa Ragazzi L'Opa era una cosa Che ci condannava Tutti gli anni Un po' come tante squadre Della Serie A La Roma finalmente Va in porto L'Opa da parte Dei Fretkin Che non smetterò mai Di ringraziare Siamo La Roma è uscita Finalmente Siamo Nell'ultimo giorno utile Secondo quanto Ha riportato La finanza Il gruppo americano Ha superato La soglia Del 95% Del Necessario Dell'offerta Ragazzi Quindi in poche parole In sostanza La Roma non sarà più Condannata A fare un mercato Basandosi sulle vendite Ragazzi Perché Negli anni Ragazzi Il mercato da Roma Verrà incentrato Su In base A giocatori che vendi Giocatori che compri Il che non significa Che tu non devi vendere Tu devi comunque vendere Però non c'è più La necessità Di vendere per forza Ecco Per acquistare Questa in sostanza E quindi Ha superato Il 95% Quindi che porteranno Poi a procedere Il desiling Sul club Sulla piazza D'affari Quindi La Roma acquisisce Valore Valore Uscendo dalla Dalla borsa Acquisirà valore Perché i Fredkin Adesso Potranno Concentrarsi Anche sulla costruzione Del nuovo stadio Quindi per tante cose È una cosa molto importante Quello che è successo oggi E quindi Che concluderà Probabilmente Dentro Fino agosto Dopo 22 anni La Roma Dirà Un difensore centrale Ieri Era uscita La notizia Di Sera fatto Un sondaggio Per Senesi Però Il Feyenoord Chiede 16 milioni D'euro Che secondo me Sono tantissimi Per un giocatore Che va in scadenza L'anno prossimo Però Tiago Pinto Ne offre Massimo 10 Secondo me Il prezzo giusto Sarebbe La via di mezzo Tra i 10 E i 16 12 Più Uno di bonus Magari Se il Feyenoord Abbassa le pretese Senesi Me lo abbracciare Molto Volentieri Alla Roma Però È un'operazione Difficile Voglio negalare Comunque Fred Che dopo Paolo Di Bala Un altro Rinforza La Roma Sia a centrocampo Che in difesa Per quanto riguarda Le uscite Potrebbe essere Ceduto Cumbulla Non so se In prestito Il titolo Definitivo Dopo l'addio Di Bremer Cumbulla Potrebbe passare Al Torino E riabbracciare Appunto L'allenatore Con l'allenato Ovvero Ivan Juric Però A questo punto La Roma Dovrà investire In difesa Il nome Che si è fatto Per la difesa Oltre a lui È Zagadu Che ne parleremo Tra qualche secondo Per quanto riguarda Il centrocampo Veretout è sempre più vicino All'Olympic Marsiglia Si è fatta davanti L'offerta E diciamo Che lui Vorrebbe andare a giocare Lì Però bisogna vedere Il Marsiglia Quanto offre Ci sono buoni rapporti Tra Roma E Marsiglia Vediamo se riusciamo A concludere Questa cessione Finalmente E ci troviamo Del peso Di Veretout Per quanto riguarda Il centrocampista Parliamo nel dettaglio Ragazzi Di chi stiamo parlando Stiamo parlando Di Giorgino Wijnaldum Perché Il Paris Saint Germain È stato un acquisto Fallimentare Perché L'ha preso A parametro zero Ma C'ha un ingaggio Altissimo Percepisce una roba Come 15 milioni D'euro E la Roma È interessata Perché vorrebbe Però il giocatore In prestito In prestito Con Una parte Con il 50% Dell'ingaggio Dovrebbe pagarlo Il Paris Saint Germain Però è un'operazione Difficile Perché il Paris Saint Germain Vorrebbe venderlo A titolo definitivo Chiede Non è tanto Il valore del Caterlino Perché il valore del Caterlino Sono 10 milioni di euro Quello che chiede Il Paris Saint Germain Per il trasferimento A titolo definitivo Però Mentre E paghino L'intero Del suo stipendio Circa 7 milioni Di euro netti Però la Roma Non dispone Il giocatore Però ha dato La massima disponibilità A trasferirsi a Roma Quindi lui È molto È molto legato Al fatto di venire a Roma Vuole Abbracciare la corte Di Morigno E però Quindi c'è l'interesse Del giocatore Per trasferirsi a Roma Però non c'è ancora L'accordo tra Paris Saint Germain E Roma Perché il Paris Saint Germain Lo vuole vendere a titolo definitivo E non accollarsi Praticamente Dell'ingaggio Mentre a Roma Vorrebbe prenderlo in prestito E pagare Il 50% Dell'ingaggio Perché l'altro 50% Lo pagherà il Paris Saint Germain Vedremo Se ci saranno novità Per quanto riguarda Giorgino Un centrocampista top Secondo me per la Serie A Uno come Vuoynaldum A centrocampo Potrebbe togliere Tante castagne dal fuoco Veramente un bel colpo Potrebbe essersi Potrebbe essere E quindi c'è questa Se ti ricordiamo Si è trasferito Dal Liverpool Al Paris Saint Germain In parametro zero Però percepisce Ragazzi Uno stipendio altissimo E ha fallito Con Pocettino L'ultima stagione Anche per i 7 milioni 7 milioni D'euro netti Che percepisce Attualmente Attualmente Al Paris Saint Germain Percepisce 7 milioni Se non sbaglio Netti E la Roma Non vorrebbe pagare Questo alto ingaggio Ma vorrebbe la metà Cioè 3 milioni e mezzo La Roma E 3 milioni e mezzo Il Paris Saint Germain In caso Zagnolo Si è raffreddato Alla pista Juve Non ne ho più parlato Ma si è fatto vivo Allora Innanzitutto Si è fatta Si è fatta l'ipotesi Che Zagnolo Potrebbe rinnovare Con la Roma Perché adesso Lui vorrebbe Pensare Con il fatto Che arrivato di Bala Tanti nuovi giocatori Che potrebbero arrivare Addirittura Zagnolo Potrebbe rimanere Rinnovare Quindi ritrattare Ci sarà un incontro Nei prossimi giorni Per ritrattare Il futuro di Zagnolo Per ritrattare Appunto Per quanto riguarda Il rinnovo Però Si è fatto vivo Ragazzi Il Tottenham Di Antonio Conte Che vuole Nicolo Zagnolo E ragazzi Gli Spursi Sono pronti Di offrire Ovvero Pratici Per loro E' pronto Ad offrire 29 milioni Di euro Più il cartellino Di Di Rondon Difensore Gallese Di 24 anni Un giocatore Molto apprezzato Da Morigno Che è valutato Per loro 17 milioni 17 milioni 17 milioni di euro Quindi 17 Più 29 Farebbero Una cifra Pari a 46 milioni Di euro La Roma Ci sta pensando Però Facciamo attenzione Perché vedremo Ovviamente Alla fine Se rimarrà O se partirà Rimanete E rimanete Aggiornati Per quanto riguarda Anche Nicolo Zagnolo Per quanto riguarda Sempre il centrocampo E poi parliamo Di Zagatù Alla fine Allora Per quanto riguarda Il centrocampo È uscito un altro nome Ragazzi Un nome che Va avanti Da tantissimo tempo Ovvero Lucas Torreira Tiacopinto Non molla Il colpo Torreira È un'operazione Difficile Lo so Perché prende Diciamo che Ha fallito Diciamo La sua destinazione È stato quest'anno Impresso La Fiorentina È andato pure Molto bene Solo la Fiorentina Non l'ha riscattato Perché chiedevano 20 milioni Se non sbaglio L'Arsenal Per riscatto Però C'è un però Il centrocampista Uruguayano In forza L'Arsenal Di proprietà Dell'Arsenal Contratto Scadenza Giugno 2023 L'addio Potrebbe Consumarsi Dinanzi A un'offerta Pari a 10 milioni Di euro Che permetterebbe L'arrivo Dell'ex Sampdoria Alla corte Di Giuseppe Mourinho Però Il che vuol dire Che se la Roma Prenderà Lucas Torreira Probabilmente Non prenderà Giorgino Weinaldum Non penso che Verranno tutti e due O uno O l'altro Io Se devo Prendere uno Dei due Io sono un amante Di Torreira Quindi preferisco Torreira Però pure Weinaldum Non sarebbe male Però c'è il problema Dell'ingaggio Quindi Io sono d'accordo A prendermi Weinaldum Solamente se Il 50% Dello stipendio Lo paga Il Paris Saint Germain E viene a parametro zero Anche perché È un rischio Mentre per quanto Vorrei Torreira Lo preferisco Io Parliamo Riguardante Zagadou Perché Zagadou Si è svincolato Quest'anno Dal Borussia Dortmund Era un forte Obiettivo Anche dell'Inter Quindi l'Inter Dopo Farsi sfumare Di Bala Farsi sfumare Bremer Adesso si potrebbe sfumare Anche il colpo Zagadou Perché è molto vicino Alla Roma Sul calciatore Francese Angoliano Non so se Lui è Nella nazionalità Francese Però sicuramente C'è pure origine africane Non so nel dettaglio L'Inter Si è fatta viva Ad un possibile Trasferimento Di Milenkovic Quindi si è fissata Sul futuro Bisogna capire Il futuro Di Scrinia Dove andrà a finire E il possibile Approto di Milenkovic All'Inter Quindi la Roma Si è affiondata Sul classe 99 Zagadou Molto giovane È un giocatore Che a me piacerebbe Tantissimo Sicuramente Verrà a far titolare Al posto di Baniac Però su Però su di lui Ci sono anche Ragazzi Il Monaco La forte concorrenza Del Monaco E su West M Vedremo nei prossimi giorni Come andrà a finire La situazione In Wijnaldum E Zagadou Rimanete attivi E oggi festeggiamo Perché la Roma È uscita Dalla borsa Quindi dobbiamo essere felici Noi romaniste E concentrarsi Sul futuro Sempre e comunque Forza Roma Daglie Paolo Di Bara Adesso con il nuovo progetto Speriamo che possa andare Bene quest'anno E ci vediamo In un prossimo video Beh ragazzi Sempre e comunque Forza Roma Un bacione Ciao Iscrivete Mi raccomando Grazie